Pionda e donna arriva Caterina Caselli! Icona di avanguardia musicale e di costume Erano moltissime ragazze che si tagliavano i capelli come me Una vita dedicata alla musica Caterina Caselli! Un racconto in prima persona Io mi rendevo conto che non potevo più cantare Emozionato e sincero Dovevo trovare una mia strada Ebbi qualche idea anche buona diciamo In prima visione assoluta Caterina Caselli Una vita, 100 vite Questa sera 21 e 20 Rai 3